1 fino a 3 1, 2, 3 Adesso bacio Che dolcetto hai fatto? Che dolcetto hai fatto? Cioccolate? Bacio 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 Sono messo l'ora e mezzo per scrivere Dai No Scusate Questo è il passetto? Cioccolate? Credo di sì Cioccolate? Non posso mangiare Il tavolo per il trattore Vinus C'è un tipo che è Stato da mia moglie Stato così di piano Questo è il don Un bubu è Prendi la chiuncia E gli appanzi lo facciamo oggi Lo segno Sicuramente sei un bambino Questo è il don Eh Ma che non so Ah 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 Ah